Una buona giornata e buon venerdì 11 marzo 2022. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Alleluia, Cristo mi salvò. Canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Sulla croce, Cristo mi salvò. Sulla croce, Cristo mi salvò. Sulla croce, Cristo mi salvò. Canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Col suo sangue, Cristo mi salvò. Col suo sangue, Cristo mi salvò. Col suo sangue, Cristo mi salvò. Canto gloria, alleluia, Cristo mi salvò. Amen, gloria al nome del Signore. La gioia del Signore è la mia forza. La gioia del Signore è la nostra forza. Gloria a Dio. Il microfono qua se ne è andato impazzito. Scusate un attimo. Ecco qua. Ecco qua, l'ho sistemato. Bene, siamo in diretta, quindi gloria a Dio. Ascoltiamo la parola del Signore perché veramente sono desideroso di ascoltare ciò che Dio vuole dire al mio cuore. E sono fiducioso che Dio parlerà anche al tuo cuore. Dice così la parola di Dio. Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiera e suppliche. Accompagnate dal ringraziamento e la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Lettera ai Filippesi, capitolo 4, versetti 6 e 7. Il titolo di questa meditazione biblica è meraviglioso. Dio ascolta. Mio marito, alcolizzato, era violento anche con me. Di fronte a lui mi sentivo una nullità. Non potevo nemmeno rivolgergli la parola, ma Dio era al mio fianco. E ciò che non riuscivo ad esprimere ad alta voce, lo dicevo a Dio interiormente. Tutto quello che avevo nel cuore, tutta la mia pena, la raccontavo a lui, chiedendogli tutto, chiedendogli aiuto. Quanti perché? Ho fatto salire a Dio. Immaginatevi il mio stupore quando un giorno mio marito mi venne incontro per scusarsi. Usando parole che rispondevano a ciò che avevo chiesto nella mia preghiera del mattino. Sì, Dio gli aveva parlato. Ho sperimentato che davvero Dio conosce tutto, vede tutto, misura tutto ed agisce. E non è indifferente alle nostre sofferenze. Se permette una prova, ci aiuta anche a sopportarla. Dio è fedele e non permetterà che siate tentati, nel senso di messi alla prova, oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare. Prima lettera ai Corinzi, capitolo 10, verso 13. Quando siamo in difficoltà, anche nell'angoscia, potremmo pensare che Dio sia lontano? Assolutamente. Egli ci è molto vicino. Quando l'Apostolo Paolo fu imprigionato nella fortezza per essere poi deportato a Roma ed essere poi lì giudicato, sentì il Signore vicino a sé, che gli parlava e gli diceva, Fatti coraggio, perché come hai reso testimonianza di me a Gerusalemme, così bisogna che tu la renda anche a Roma. Atte degli Apostoli, capitolo 23, verso 11. In circostanze simili, Dio ci riempie del suo amore e della sua pace. Soltanto Lui può darci una serenità profonda, ben al di là di quanto possiamo immaginare. Quindi, cosa stai pensando, fratello? Cosa hai nella tua mente in questo momento, sorella, amico, amica? Cosa c'hai nel cuore? C'hai un dolore? Hai una sofferenza? Hai un problema? Hai un'angustia? Hai una prova difficilissima? Cosa stai passando? Dio ha ascoltato il tuo cuore. Dio ha ascoltato ogni tua lacrima, ogni tuo gemito, ogni tua parola non espressa, ma che è nell'intimo del tuo cuore. Stai sereno, stai serena, non temere, così come Dio glielo disse a Paolo in questo messaggio Dio sta mettendo nel mio cuore di dirti, non temere, abbi fede nel Signore, confide in Dio, sappilo aspettare. Lo so che è difficile, lo so, perché non è che sto parlando da teorico. L'ho vissuto in momenti terribili e ti posso garantire che ho passato momenti veramente terribili, però in quei momenti Dio vede tutto, Dio ascolta tutto, Dio risponde, quindi rimani fermo, rimani ferma e continua a cercare la faccia del Signore, perché Lui ha già ascoltato tutto, ha visto tutto ed è pronto ad agire. Stai sereno, vivi in pace, anzi, ti saluto con la pace di Gesù. Forza, coraggio, andiamo avanti, anima mia, avanti, dillo tu, anima mia, avanti, con forza, alleluia. Dio ti benedica.